Giorgio Fracalossi, oggi a Roma, che cosa si aspetta e quali sono le novità? Le novità le abbiamo sentite ieri sera con l'ipotesi di decreto, almeno il decreto che è stato emanato dal governo, non l'abbiamo ancora esaminato, ma all'interno contiene una norma che un po' ci preoccupa, togliamo il po', una norma che ci preoccupa, perché il tema della trasformabilità delle BCC in SPA non l'avevamo neanche messa mai in considerazione, ragionavamo su un modello di credito cooperativo diverso che facesse capo ad uno o più capogruppo e questo era quello che avevamo in mente, ma è chiaro che noi ragionavamo invece a un'adesione obbligatoria con una gradualità di autonomia della singola BCC. Il tema della trasformabilità, quindi la non obbligatorietà dell'adesione per le BCC che superano i 200 milioni di patrimonio, non l'avevamo messa in considerazione. L'ipotesi della holding a questo punto comunque rimane su altro fronte, ci sarà la possibilità di valutare alternative e un'eventuale comunque uscita da questo ombrello nazionale? Ma è chiaro che questa ipotesi fa fare altre riflessioni, oggi in Trentino non abbiamo nessuna cassa rurale che supera i 200 milioni di patrimonio, per cui ad oggi per noi il problema non si pone, è chiaro che però potrebbero nascere volontà di fusioni per arrivare a superare questo limite e poi fare altri ragionamenti. Questo ci farà fare ulteriori riflessioni per quanto riguarda il modello in costruzione sia a livello nazionale che a livello locale, però ripeto è ancora presto per definire quali sono gli scenari. Noi abbiamo delineato tutt'altro scenario nel quale muoverci. Questa ipotesi o meglio quello che il decreto afferma soprattutto nella trasformabilità è una novità che ci preoccupa e ci fa fare alcune riflessioni.